come sempre seguire la traccia e mi hanno lasciato il pietro prendi la traccia e se ti perdi qua sei fregato vai 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 abbandonato avanti allora 3A per Marco su avanti allora ho seguito la velocemente di risalire verso la strada che dovrebbe essere che fa tutta la navetta che scende da Barchera alle ore 10 per cui ok ciao grazie molto bene grazie 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 vediamo ci sono c'è qualcosa da c'è questo c'è un pipe in il non non è Sì, io ci chiedo adesso chiamato Ivano, anziché a questo punto si gira conquista. Ivano, prima, l'anno alla prezza per scomproviscero con la conquista. Allora, l'anno scomproviso e scomproviso con la conquista. Marco, ho la cappa, nulla di grave, c'è un paio di distorsione questa notte, nulla di grave, inizia a camminare, però non so che il tempo di distorsione. Questa è tutta così, diritto alla costa della montagna. e quindi taglia l'acqua. Però in mezzo può solo, quindi c'è una rampa che è tutto. Dove è spazio? Inizia. Ma il marciato? Un piccolo frizione. Perché non tira più ormai? Lo pretendi? Il marciato è mica Montesa. E qua in mezzo a due Montesa, dici oh, devi smetterla. Io non cambiarla, mica la moto. Ah, beh. Grazie.